La zona gialla è in bilico. La Befana, oltre alle feste, porterà via anche il decreto natale e dal 7 gennaio si tornerà al sistema dell'Italia a colori. L'Abruzzo dovrebbe tornare, dopo due mesi di rigide regole, a livello più basso di restrizioni. Lo ha dichiarato il presidente della regione, Marco Marsilio, che ha anche già ricevuto conferma in via telefonica dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Dall'ultima cabina di regia ministeriale, che ha analizzato i dati dal 21 al 27 dicembre, è emerso che l'indice RT di trasmissione del contagio in Abruzzo è a 0,65, il più basso di tutta Italia, mentre la media nazionale è poco oltre lo 0,9. Una notizia incoraggiante, conseguente alle restrizioni che nell'ultimo periodo nella nostra regione sono state le più severe della penisola. Buone notizie anche riguardo i dati del sistema sanitario, il tasso di saturazione delle terapie intensive è sceso dal 23 al 20%, così come quello delle aree mediche, dal 37 al 31%. Le preoccupazioni però sorgono analizzando i numeri del bollettino quotidiano, secondo cui negli ultimi giorni il tasso di positività è nuovamente schizzato. Dal 3,36% del 29 dicembre, giorno in cui i positivi sono stati 47 su 1.398 tamponi, i numeri sono poi gradualmente peggiorati. Il 30 ai positivi sono stati 278 su 4.052 test, per un tasso di positività del 6,86. L'ultimo dell'anno invece si è superata a quota 10%, con 456 positivi su 4.311 tamponi. E ieri, primo gennaio, si è sfiorato il 12%, 410 positivi su 3.452 tamponi processati. Si è però ancora al di sotto della media nazionale, che si attesta intorno al 14%. Per la settimana prossima è prevista una nuova cabina di regia ministeriale, in vista della riclassificazione di giovedì 7. Non è stato ancora comunicato il giorno, ma è probabile che questa si svolga il 5. In quell'occasione bisognerà quindi tenere conto anche dei dati dell'ultima settimana, per poter determinare il colore delle regioni. Al momento, in base ai 21 parametri su cui si impone il colore della zona, l'Abruzzo non è assolutamente in una situazione più allarmante di quella che riguarda altre regioni italiane. Tutto però è ancora in discussione. Se nei prossimi giorni dovesse continuare il trend di vertiginoso aumento del tasso di positività e i reparti ospedalieri dovessero tornare ad affollarsi, Speranza potrebbe fare dietro front, non concedendo più la zona gialla. Insomma, al momento l'Abruzzo sembra raccogliere i frutti della prolungata zona rossa e ad oggi rientra ancora nello scenario di minore rischio. Ma la situazione, qui come nel resto d'Italia, è ancora instabile.